Ciao a tutti da Salvatore, eccoci qui a Piazza Testaccia con i grandissimi Filippo Roma e Fabrizio Agnoli. Siamo tutti i riconosciuti da non piano, forza Roma, forza Roma, è una grande infusione, facciamo tanti video di una club Testaccia in 50 anni, auguri di 50 anni, soppriamo! Ecco qui, la mattina c'è qui, e chiede al governo, spieghiamo di non fare la carta, ecco, ciao! Vagos, tagli a Roma!